Il primo di questi casi, interessante, purtroppo non abbiamo molti dati clinici e sono interessanti più dal punto di vista forse dell'imaging. Abbiamo scoperto che le cartelle cliniche non sono così facilmente reperibili ormai perché a distanza di tre mesi finiscono via, è la prima volta che mi capita, gli anni scorsi non mi era mai capitata, siamo muossi a comportare, comunque le cartelle cliniche non sono arrivate alla fine della fiera. Comunque qualche dato clinico l'abbiamo raccolto tramite il nostro PAX, sono interessanti forse più dal punto di vista radiologico che non clinico, però poi ci daranno una mano perché poi sono passati anche per le loro mani, quindi ci daranno mano anche i clinici. Questo deve essere vostro. Di questo signore sappiamo che nel settembre del 2010, questo signore di circa 59 anni, si presenta al pronto soccorso con un unico episodio di dolore epigastrico acuto al mattino, le amilasi a ricovero sono elevate ma non sono elevatissime, tra l'altro sono arrivati sicuramente i risultati di queste amilasi dopo l'esecuzione di questa ecografia, questo radiogramma di addome, classico di radiografia dell'addome, che vi invito a guardare e esprimermi il vostro parere e vediamo un pochino se c'è qualcosa di significativo secondo voi. Non mi rovini la sorpresa, ma chiunque, dei radiologi ovviamente, secondo me è assolutamente impossibile vedere, si vede solo col senno di poi, però se qualcuno vuol provarci? Allora, il referto è questo ovviamente, non ha la libera titunfetitera, quindi non c'è perforazione, diffuso meteorismo interocolico con piccoli livelli reali, l'ingresso pelvico fianco sinistro, qui lo vediamo in effetti, abbondante coprostasi lungo il colono e va bene e basta così. Viene fatta l'ecografia che come tante volte capita, ecografia di pronto soccorso, malvalutabile pancreas regolare, anche se in effetti qualcosa si vedeva, non del patologico, eritoperitoneo eccetera eccetera, non c'è l'itia sbiliare. Viene fatta dopo qualche giorno l'attacca e di nuovo vi ripropongo le immagini della scau dell'attacca, perché ripropongo allora la domanda che ho fatto prima, c'è qualcosa che non fila qua dentro? Ripeto, soltanto col senno di poi si può vedere, lo rivedremo poi alla fine, penso che nessuno sia in grado di distinguere questo segnale. Allora vediamo l'attacca, come è andata effettivamente. Ecco, questi sono i reperti, vi mostro la fase venosa perché è la più significativa, è inutile guardare tutte le altre, sono state fatte tutte in questo caso quadrifasica senza e trifasica, senza contrasto trifasica. Se qualcuno di voi radiologi vuol dirmi cosa ne pensa di queste immagini, ovviamente quelli che sanno il caso, il dottor Bellosso tra l'altro che l'ha fornito non disse assolutamente nulla, c'è qualche collega che vuole vedere, che vede qualcosa che non fila qua, mi sembra abbastanza evidente, con la sua attacca, no assolutamente, no, per verità, ma penso che chi fa attacca è la cosa salta in vita. C'è l'aria libera dove? Esatto, c'è dell'aria libera a livello dello stomaco, dietro lo stomaco e tra il pancreas sia il duodeno fondamentalmente, eccolo qua, quindi c'è quest'aria libera, salta subito all'occhio qua, allora, qui sono le ricostruzioni multiplanari che evidenziano quest'aria libera, la guardate qua, la vedete qua, eccola qua, eccola qua, e a questo punto, eccola qua, assolutamente impossibile l'individuare, allora, beh ma lei è un genio, è aria libera, così è stata refertata, l'elemento di maggior rilievo è dato dalla presenza di abbondante aria nel reto peritoneo localizzata nella regione peripancreatica e verso l'iloepatico. Allora, a questo punto uno si chiede cosa, da dove arriva quest'aria libera, da dove può arrivare, quindi fate delle ipotesi, vi rimetto le immagini, è chiaro che da dove si pensa possa arrivare quest'aria, beh sì certo, quello sì, o comunque la perforazione del duodeno ad esempio, e infatti il collega ha scritto, sospetta per una provenienza duodenale in seguito da perforazione successivamente tamponata in considerazione del miglioramento clinico. Va beh, e adesso vi chiedo, secondo voi, cosa fareste a questo punto? Ci fermiamo qui come referto? Cosa facciamo? Oppure ci fermiamo qui come diagnosi per immagini? Lo chiedo ai radiologi? In medicina mi pare. Infatti, no no, ma nessuno ha proposto a gastroscopia, eventuale dimostrazione della perforazione duodenale mediante studio con gastrografin, però, e questa è l'immagine, qualcuno vuole commentare se c'è qualcosa, cosa si vede, cosa non si vede, infatti, non c'è la perforazione, continua a esserci l'aria, va bene, lo studio con gastrografin però si ha confermato l'assenza di fuoriuscite di mezzi di contrasto e quindi l'assenza di perforazione. Allora, dimmi, sicuramente, ma così non è andata, così non è andata, penso, tu te lo ricordi di quel caso qui? Te lo ricordi di quel caso qui? Perché noi abbiamo una carenza di dati clinici, quindi non abbiamo le cartelle, quindi tu Antonio ti ricordi un pochino come mi dai una mano eventualmente, cioè tu dici non poteva essersi risolta, non poteva essersi stamporata con tutta quell'area libera lì presente, non è detto neanche quello. Allora, l'ipotesi che viene fatta dai colleghi è stata questa, in alternativa, appunto, se non è una perforazione, evidentemente invece questa clinica infettiva doveva esserci perché pancreatite enfisematosa, l'ipotesi che è stata fatta e poi è stata confermata, mi pare è stata questa, giusto Antonio? Ok, allora, sì sì, ah sì, beh me l'ho tolto, sì, ce l'ha scritto, nel referto ce l'ha scritto, andate a vedervi l'articolo tal dei tali, per migliori delle uccidazioni consultate su internet e comunque la consultazione, eh non lo so, purtroppo ripeto, della clinica so poco, è un esame tirato fuori dal nostro PAX così, quindi avessi avuto il quadro, avessi avuto la tale, arriveranno le cartelle domani, dopo domani, non lo so, per quello chiedevo se per caso si ricordava qualcosa, visto che è stato ricoverato proprio in medicina questo, Marta. Tu Antonio ti ricordi poi dell'elimento diagnostico? Beh, dal punto di vista, parlando di questa pancreatite enfisematosa, appunto, scartabellando su internet, salta fuori questo che è una variante rara della pancreatite acuta severa, con mortalità elevata, la maggior parte dei casi di pancreatite enfisematosa sono dovuti a superinfezioni della gran negativi, escherichia o clebsiella, pseudomonas, la porta di entrata di questi agenti effettivi non ne ha conosciuta, ci sono diverse possibilità, per via matogena o linfatica, per estensione trasmurale dall'intestino, una comunicazione con l'intestino oppure attraverso l'ampolla di Fatter patente, quindi di realtà. Ancora, la diagnosi è fatta radiologicamente sulla base della presenza di gas nel retroperitoneo e in effetti questi signori riportano, le immagini loro non le abbiamo riportate, un quadro esattamente identico a quello che abbiamo incontrato noi. Poi a questo punto la diagnosi per precedenza viene fatta dalla topografia, dalla TAC perché è chiaro che dimostra l'aria libera, dimostra le esatte estensioni, eccetera. Da questo punto di vista c'è una discussione, si può aprire una parentesi dal punto di vista della terapia, come dicevamo prima con Marco, nel senso che tradizionalmente queste alterazioni sono un'indicazione chirurgica. Però ultimamente è stato evidenziato come si può procedere anche con un trattamento conservativo, anzi addirittura se le condizioni cliniche delle pazienti sono stabili il trattamento di scelta è conservativo con antibiotici e in alcuni casi può essere fatto un aspirato, un drenaggio. In questo caso, nel nostro caso, in effetti il trattamento è stato conservativo e questo è quello che è successo a distanza di pochi giorni, 24-9-2010, quello quasi infatti. La raccolta, potrebbe venire anche il dubbio se è nato prima o dopo la gallina, voglio dire se la pancreatite fosse stata conseguenza ad esempio di una perforazione per dire che poi tamponata, c'è anche questa possibilità. Comunque resta il fatto che questa era effettivamente una pancreatite con una raccolta liquida, il gas man mano si è ridotto sempre di più, questo è il referto, il parentimo pancreatico tuttavia la raccolta resta esterna a pancreas, non c'è necrosi e questo è dopo un trattamento conservativo a distanza di un mese, si continua il trattamento conservativo e si ha in pratica la risoluzione del quadro. pochi, 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 ci sono 4-5 link su internet, pochi, sì anche secondo me, sicuramente anche qua, no no infatti, infatti io non sono d'accordo, non è tutto d'accordo con questo interesse, sì sì sì, per resto poi vedremo anche in un altro caso analogamente, secondo me è convolto il pancreas, non dimenticato come può dire. Sì sì no, lascia spazio dei dubbi, lascia spazio anche a un dibattito, quindi dimmi. Lì, lì, adesso dovrei guardare, però veniva referto, veniva descritto comunque la sua, eccolo qua, guarda, sì c'è qualcosa anche qua, guarda, anche qua. Sì sì sì, ma l'atterolaterale ormai lo facciamo soltanto le tangenziali quando non riusciamo magari a mettere, a vedere gli emidiaframmi bene, quindi no no di rutina assolutamente no, beh sicuramente avrebbe evidenziato l'area retroperitoneale, poi comunque comunque anche l'atterolaterale non so fino a che punto, perché se poi comunque si fosse sovrapposta l'area nel colon delle flessure lì non l'avresti visto comunque, non so, comunque qui in effetti c'era un quadro comunque pancreatitico anche qua, e c'è già la soffusione, guardate l'ispessimento delle fasce pararenali qua, quindi ci siamo con la pancreatite direi. Allora, qualcos'altro da dire Antonio su questo caso che ce l'ha fornito Antonio proprio, dottor Dell'Osso? Certo, che si partiva già con l'idea di pancreatite e come mai c'era l'aria? Va bene, vado al prossimo, ok, caso clinico 2, questo caso non è nostro, quindi per sincerità bisogna dirlo, questo caso viene da Brescia dove si è tenuto un analogo, un corso parallelo, noi abbiamo un caso praticamente uguale, però essendo l'eziologia lievemente diversa, anche se l'imaging è sovrapponibile, ho preferito portare questo che è più inerente al tema tratatologico, ormai poi vediamo quello successivo, quello che abbiamo noi che abbiamo già visto tra l'altro l'anno scorso. In questo caso abbiamo un paziente di 75 anni che arriva, maschio, a 35 anni, a 35 anni gastectomia per ulcita, appendicectomia, gastrite cronica del moncone, eccetera, eccetera, arriva a fare anche lui il suo bel ecodome di pronto soccorso per dolori addominali, disomogeneo incremento volumetrico della testa del pancreas e dilatazione del virsung, della via biliare principale e delle vie biliari intrepatiche. Purtroppo non abbiamo le immagini dell'eco, viene avanzato il sospetto di eteroplasia. Il 28-10-2005 si ripresenta e viene fatta, anzi non viene subito, viene ricoverato e viene fatta questa TAC. Vorrei che qualche TACchista mi dia una mano a descrivere quello che si vede. C'è qualcosa intorno al pancreas, c'è una raccolta, ma c'è qualcosa che colpisce. La parte più bassa sembra aumentata di dimensione? Secondo me sì. Dice che il processo un cinato secondo lei è molto aumentato di dimensioni, che comunque è la completamento di quello. Non è solo aumentato di dimensioni. E l'iperdensità della testa secondo me che è significativa? C'è un'iperdensità, guardate che qui siamo in fase basale, senza mezzo di contrasto, c'è qualcosa che non fila, perché senza mezzo di contrasto dobbiamo trovarci questa iperdensità? Cosa può essere? Com'è? Un'emorragia, può essere un'emorragia. Oppure? Beh, qualcosa di più, una conseguenza di un'emorragia, come si vede più avanti. Allora, facciamo il contrasto e vediamo cosa salta fuori adesso. Allora, è un'opsello del neurisma, infatti vediamo con il lume che a questo punto qui era lievemente ipodenso e il trombo circostante iperdenso e qui risulta ovviamente ipodenso. Quindi questo qui era uno pseudoneurisma su pancreatite, complicanza proprio della lesione del ramo pancreatico dodenale da parte dell'ilastità. Eccolo qua. Sì, ce l'ho poi in fondo, possiamo vederlo, che è soltanto... è questo, caso numero due dell'anno scorso. Femmina di 57 anni, si presenta il 17-10-2009 per dolore epigastico, insorto acutamente tre giorni prima e vomito persistente. Ha già eseguito ecografia addome, tac, addome, senza e con mezzo di contrasto, presso altra struttura. Vogliamo vedere quello che è stato visto presso l'altra struttura, struttura privata? Non c'entra niente, ma... Allora, chi è che vuole commentare questa ecografia? Siamo a livello del pancreas, una scansione trasversale a livello del pancreas, direi proprio sì. Qualcuno si sente di dire qualcosa? Claudia? Sembrerebbe una massa, siete tutti d'accordo? Sembrerebbe una massa, una pseudomassa. Vabbè, comunque... Come? C'è una porzione centrale un po' più ipoecogena qua. Ok, mettiamola da parte. Allora, il referto è questo dell'eco. Pancresi con struttura regolare, tra il processo uncinato e la terza porzione duodenale, a contatto con la parete duodenale si evidenzia una zona ipoecogena pseudonodulare di 5-5 cm che trac necessita controllo, tac. Pronti? Tac. Ok, questa è la fase arteriosa e cosa vediamo? Guardatela bene, poi ci torniamo su un attimo. È evidente che qua è qualcosa che non fila è a questo livello, a questo livello. Vediamo la venosa, questo qui è il corpo-codone del pancreas, qui siamo in prossimità della testa del pancreas. Eh, ci torno adesso, il giochettino. C'è qualcosa che non fila in mezzo a questa massa, questa massa, si vede un vaso che non funziona, cioè serpiginoso, dilatato, eccetera, eccetera. In questa famosa massa. E poi direi che su questa massa, facendo un po' di valori di densitometria, probabilmente vedremo che come massa, diciamo un po' poco, perché guardate che spessimento qui che c'è nel foglietto periconeale, quindi questa è la venosa e la risposta è questa. La seconda porzione duodenale appare infiltrata da materiale ipodenso che si estende al mesentere. Si consiglia controllo gastroscopico e quindi la cosa passa nelle... Ah, arriva da noi a questo... no, aspetta, aspetta, lui anticipa sempre qui. No, questa non era della nostra pizza, questa era della casa di cura, eh. La canna è partita abestrinseco. No, perché poi c'è anche nostra. Comunque, gli esami di laboratorio evidenziano questi risultati, gli amilasi nel cielo sono un po' elevate, però vabbè, non è una cosa importante, però c'è qualcosa, quindi qualcosa che parte dal pancreas, viene rifatta l'attacca. Ah, guardate che poi le transaminali alterate, va bene. Ah no, scusate, la vostra gastroscopia è evidenziato questo, ectasia del bulbo e ginocchio duodenale, mucosa iperemica e dematosa con gesta, come la sofferenza vascolare, condizionante stenosi luminale non valicabile, costrumento di diametro titum fetitera e quindi, conclusione, viene confermato che sembra esserci qualcosa che stenotizza il duodeno abestrinseco. Allora, viene ripetuta successivamente la gastroscopia, hanno usato strumenti di calibro inferiore e sono riusciti a superare la stenosi, anche perché nel frattempo era diventata una substenosi. E quindi vengono fatte delle prelievi di... per fare... Allora, quindi il referto TAC nostro, sospetto di un breve... prima TAC, sospetto di un breve spessimento segmentario concentrico delle pareti della porzione verticale dell'ansa, sulla cui natura per i visceriti in flogosi cronica eteroplasia non è possibile esprimersi. Vabbè, comunque, però l'ipotesi voglio dire... Allora, attorno al ginocchio inferiore si raccoglie una modesta quantità di liquido. Vediamo le immagini, scusate, vediamo le immagini. Cosa si nota? Questa... Beh, peggio però, 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 c'è un però nel senso che si vede quasi meglio quella cosa. Però si nota anche una cosa, la massa si è ridotta, la massa si è ridotta, quindi... Esatto, compare meglio la forma vascolare nodulare e la massa intorno si è ridotta. Qui Gatta ci cova. E in effetti, questo, devo dire, è stata una mia soddisfazione nel senso che ho ripreso quell'ATTAC lì e sono andato a farmi le ricostruzioni, anzi, prima ho fatto l'ecografia, dopo aver fatto l'ecografia sono tornato a riguardare l'ATTAC e ho fatto delle ricostruzioni di MPR per dimostrare quello che ho visto all'eco. Allora, le ricostruzioni dimostrano questa cosa. Vedete, questo è il duodeno e qui c'è la formazione aneurismatica. Vedete, di un ramo pancreatico duodenale. È la stessa che abbiamo visto nella presentazione prima, quando parlavo della pancreatite. Allora, eccola qua, ricostruita, il sagitale, il coronale, le MIP, eccetera, eccetera, vista da tutti i punti di vista e questo è l'ecocolordoppler che era stata la cosa che prima mi aveva fatto sospettare e gli ho fatto l'eco col contrasto, si vede anche l'eco col contrasto, soprattutto all'eco col contrasto e con la polietilenglicole, qui abbiamo somministrato PEG per distendere bene il duodeno, abbiamo visto che non c'era in realtà nessuna eteroplasia da quelle parti lì, la parete duodenale era comunque molto bella. Qui c'era il video, l'ho tolto. Comunque, si evidenzia formazione vascolare di tunfetitera caratterizzata da color doppio dal flusso compatibile con piccolo aneurisma e con turbolenza al terciato velocimetrico. Nella ipotesi di aneurisma di ramo pancreatico duodenale si consiglia approfondimento diagnostico mediante arteriografia anche al fine di eventuale procedura di embolizzazione. Ok, nel frattempo arriva il risultato dell'atomia patologica che conferma che non c'è nessuna eteroplasia. E poi il dottor Rozi procede alla embolizzazione della formazione neurismatica, quella qua, prima e dopo con spiraline, analogamente a quanto abbiamo visto nella presentazione. Io non ho altri, ne ho solo uno brevissimo. No, se mi concede, dottor Livetti, se mi concede soltanto due minuti, ma il mio è brevissimo, è soltanto una cosa per i radiologi, questo è brevissimo, proprio due minuti. No, non è bellissimo, è brevissimo, è brevissimo. Allora, e deve essere questo. Allora, caso clinico, va bene, era il 3 perché veniva dopo quello, vediamolo. Anche questo si presenta con il quadro di addome acuto, viene qui, fa la sua bella indagine radiologica convenzionale, vedete qualcosa di particolare, direi di no, c'è il solito quadro di livelli idroaeri con distensione, non si vedono calcificazioni, non si vede l'itiasi significativa, fa un'ecorafia di PS, il quale dice ovviamente non possibile la valutazione del pancreas per il meteorismo intestinale, con le cisti di esteris e di infundibolari si documenta la presenza di alcune formazioni litiasiche del diametro massimo di circa 10 mm e modesto espessimento parietale. Allora, fa una colangio RM, vedete qui la mip della colangio RM, sembra che non ci sia nulla di particolare, qualcuno ha qualche osservazione, direi che non c'è niente, il Wilson si vede, non si vede bene qui, il coledoco comunque non è dilatato, eh? C'è una minima? Eh sì, 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 questa si vede, la colicista presenta le pareti un pochettino spessite, sì, questo si vede. Però se guardiamo anche le T2, pazzato oppure le T2, vediamo si nota qualcos'altro di particolare? Qui viene refertata una coda aumentata di volume, quindi il reperto è un po' sospetto. Confermate questo ipotetico aumento di volume? È un po' più grande, ma sicuramente l'intensità è del tutto normale, quindi è un parenchima del tutto normale. C'è forse qualcos'altro su cui parlare, giusto? Qui ci sono già delle raccolte fluide, questo pancreas qui non è un pancreas del tutto sano, direi. Allora, vediamo l'attacca che è stata fatta. Guardate cosa si vede, partendo in senso craniocaudale siamo in una fase, cos'è, venosa? Venosa, questa qua. Allora, come avreste refertato? Prima non volevo mostrarlo ieri perché dicevo vabbè, poi dopo l'ho mostrato due colleghi ma hanno risposto come ha risposto chi ha risposto qua. Quindi ho detto beh, allora forse può essere anche interessante. Penso sia la mesenterica superiore già è lì, non lo so, o è il tripode. Il tripode dovresti vedere che parte così, quindi... No, quella, scusami, è un vaso che penso che parte dal tripode, perché la mesenterica superiore la vedi dopo. Qualcuno avanza un'ipotesi sulla natura di questa formazione? Cosa fareste per stabilire la natura? La natura per modo di dire, per avere qualche informazione in più. Perfetto, ok, benissimo, benissimo. Ecco, qui abbiamo delle ricostruzioni MPL in fase arteriosa, vediamo ancora questa cosa qua, polibozzuta, tituffe, titera. Cos'è, vabbè, il referto è stato questo. Presenza di grossolani pacchetti linfonodali confluenti e di aspetto colliquato. Altre formazioni linfonodali più piccole accompagnate da falda liquida presente in sede pericolacistica, eccetera, eccetera. Il pancreas pur circondato da questo conglomerato linfonodale non presenta foccia sospetti confermando lievi ipertrofia della regione caudale. Sì, te le faccio vedere adesso perché le ho fatte le fotografie ieri sera, guarda. Allora, con la densitometria intendo dire. Quello che io noterei, tra l'altro, è che sull'esprimersi in questo modo, su questo pancreas, come negativo, io avrei qualche dubbio. Perché qua, questa, e poi ho anche altre immagini, forse le ho, si vedono dopo, comunque questa, 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 questa fa parte del paninchema pancreatico ed è ipodensa. Quindi sul fatto di dire che il pancreas non ha nulla avrei qualche dubbio. Poi giustamente, quello che bisogna fare, naturalmente poi ha fatto un'ecografia a questo punto, l'ecografista, non sono io quindi non attribuisco nessun merito, anzi lui è bravissimo tra l'altro come tacchista, ha sottolineato che il pancreas, giusto per il pancreatico, era disomogeneo. Però verosimilmente in relazione alle regioni descritte nella recente indagine TAC. Allora, quello che bisognava fare era questo. Allora, voi vedete che con una, quelle sono le due, quelle fasi sono basali. Qui abbiamo l'arteriosa venosa e tardiva. L'enhancement, allora in alto, in fase basale, siamo sicuramente sul liquido pressoché puro. L'enhancement successivo è quasi nullo, pressoché è nullo. Si ha soltanto un minimo enhancement varietale di aspetto un pochino flogistico, se vogliamo. Quindi descrivere questi come linfonodi colliquati, ci sta poco. Quindi, quello che era in realtà era una pancreatita acuta con una raccolta che mimava dal punto di vista morfologico le colate adenopatiche. Era un po' atipica, era una raccolta quasi saccata, ben definita morfologicamente. Quindi non si è diffusa secondo quelli che erano i canali di diffusione che abbiamo visto prima. Però, chiaramente, l'attacca effettuata dopo un po' di tempo dimostra che tutte le formazioni podense e linfonodali sono regredite. La contemporanea regredizione dimensionale attribuisce, ovviamente, e questo la dice lunga sull'autore del referto, ovviamente tutte le formazioni suddette, il significato di soffusione fluide per i ghiandolari, conseguente al noto episodio pancreatitico. Quindi è che con questo, vabbè, ho finito i miei, ne ho altri, però veniamoli a parte.